Pubblica il post, fissa una call, invia una mail, son già le 6, allega il file, salva su Drive, L1AD, setta la DB, metti nel plan, scrivi una DM, leggi la chat, piccolo break, scrivi al PM, fai il mockup, occhio al bug, budget on top, bello però, mi metto in no spot, entra nel look, più qualità, manca CTA, aggiungi una slide, a spai il tuo file